Tragedia nel barese, nel pomeriggio di domenica 25 giugno e di un morto e tre feriti, il bilancio di un incidente fra due auto avvenuto sulla circonvallazione di Turi nei pressi di una stazione di servizio. A perdere la vita è stata una donna di circa 60 anni di nazionalità thailandese e morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto ricostruito l'impatto violentissimo è avvenuto poco dopo alle 18, l'auto su cui viaggiava la vittima in direzione Bari si è scontrata con un SUV che proveniva dalla parte opposta a bordo con la Sessantenne. C'erano altre tre persone rimaste tutte ferite, il leso, il conducente del SUV, un uomo originario di Castellana Grotte. Lo scontro è stato talmente forte da rendere quasi riconoscibili le due vetture, specialmente quella guidata dalla vittima. Sul posto sono intervenute tre equip sanitarie del 118. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti che transitavano sull'arteria stradale. Per estrarre i feriti dal veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratti dall'auto sono stati portati negli ospedali di Acquaviva delle Fonti e di Bari. Inutile la corsa contro il tempo per salvare la Sessantenne. La donna, come detto, è morta in ambulanza. Il conducente del SUV è stato sottoposto ad alcol test e sarebbe risultato negativo sul posto. Erano presenti anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gioia del Colle che si sono occupati dei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica. La strada è rimasta bloccata per diverse ore provocando gravi disagi al traffico.